Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento della rubrica Quo Vadis che nell'ambito di voci di cittadella dà voce a chi nonostante le mille difficoltà dovute alla pandemia sta compiendo un percorso di crescita personale e professionale dimostrando che riorientare le nostre vite è possibile. Oggi incontriamo Stefano Fontanelle titolare di Idea Art di Saint-Pierre. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Stefano la tua azienda ha una storia davvero molto molto interessante e voglia di raccontarcela. Sì allora beh sono contento che la riputiate interessante. Noi sono 15 anni che facciamo magliette, che facciamo merchandising, che regaliamo sorrisi grazie alle nostre opere carine sempre per mano di qualche bravo disegnatore comunque prodotti simpatici e che fanno venire il sorriso. Con l'arrivo di questo tremendo virus e l'inizio della pandemia abbiamo dovuto ripensare un pochettino quella che era la nostra organizzazione dei prodotti da offrire. Dopo un attimo di stop, una settimanina circa, abbiamo pensato che fosse meglio renderci utili e riconvertire momentaneamente la produzione a mascherine e non più a magliette. Caspita, quindi un cambio che avrà avuto delle notevoli implicazioni. Vuoi raccontarci nel concreto come questo è avvenuto, come lo hai reso possibile, come lo avete reso possibile? Beh non è stato difficilissimo ma non è stato neanche facile, è una via di mezzo, nel senso che appunto ci siamo fermati qualche giorno, dopodiché mi sono detto come possiamo renderci utili realmente. Abbiamo il tessuto, abbiamo le capacità produttive, abbiamo le macchine da cucire e da ricamo e allora abbiamo ben pensato di cominciare a fare dei prototipi e dico abbiamo perché abbiamo fatto tutto questo in collaborazione con un nostro fornitore che ha sede a Cremona e quindi anche la distanza non è stata una cosa semplice da gestire. Comunque abbiamo creato i primi campioni, abbiamo capito come poter fare queste mascherine nella maniera più semplice possibile in modo da avere una produttività giornaliera molto alta e così abbiamo tirato fuori un modello molto semplice di mascherina ma efficace che era quello che richiedeva il mercato in quel momento e siamo partiti a fabbricare mascherine. Abbiamo iniziato con qualche decina, qualche centinaia per arrivare comunque a delle soglie importanti giornaliere e calcolando che tutto fatto a mano insomma delle soglie importanti e quindi questa è stata in maniera molto concisa quello che è stato l'inizio di questa riconversione. E chi sono i vostri clienti principalmente? Beh, i nostri clienti prima del virus erano manifestazioni sportive, bar, ristoranti, grandi eventi, piccoli, medi eventi. Con l'arrivo del virus i nostri clienti erano nessuno perché tutti gli eventi erano fermi, tutti i bar erano chiusi, i ristoranti erano chiusi quindi ci siamo trovati con un parco clienti messo in stand by. Poi non è vero, non è del tutto vero perché siamo riusciti comunque a portare avanti insomma il nostro nome e la nostra esperienza. 15 anni di attività si fanno sentire in maniera positiva per fortuna, quindi riusciamo a lavorare per alcune strutture che sono comunque rimaste aperte. Però da quel momento, dall'arrivo del virus, il nostro cliente principale è diventato chiunque, quindi dal pensionato al benzinaio, all'operaio, al direttore di banca, alle forze dell'ordine, all'infermiera che magari voleva le mascherine per il dopoturno, quindi chiunque è diventato un nostro cliente, perché siamo partiti in un momento in cui la carenza di mascherine era veramente folle, quindi siamo passati da un prodotto simpatico come poteva essere una maglietta a un prodotto di necessità massima in quel momento, perché eravamo qui in valle soprattutto a corto di mascherine e noi invece abbiamo messo in piedi una produzione importante che è servita tutta comunque, per fortuna a oggi placata, perché comunque adesso sul mercato ce ne sono tante, ma noi possiamo freggiarci di essere stati un po', insomma, di essere partiti quando serviva, ecco, essere pronti quando serviva. Beh sì, siete stati prontissimi, siete stati veramente prontissimi. Hai voglia di raccontarci com'è cambiata la vostra routine, com'è cambiata la vostra giornata lavorativa con l'avvio di questa nuova produzione? Sì, allora non è cambiata molto in verità, nel senso che abbiamo semplicemente ricondiviso diversamente spazi e orari, ecco, abbiamo nel nostro stabile degli spazi importanti che ci hanno permesso di mantenere un distanziamento sociale ancora prima che ci venisse consigliato o imposto, insomma, dai vari decreti. Quindi, avendo degli spazi ampi, ognuno lavorava in una stanza diversa e abbiamo messo in pratica le accortezze che poi sono diventate, insomma, consigli ufficiali da parte dei vari decreti ancora prima che uscissero, quindi comunque igienizzare tutto e pulire ogni superficie che veniva toccata. Diciamo che forse la pulizia e lo stare attenti è la cosa che più è cambiata rispetto a prima, dove prima pensavi a una produzione e poi a fine giornata pensavi a igienizzare i tuoi spazi. In questa fase qui il cambiamento più grosso ce l'abbiamo in questi tempi morti, ma utili ovviamente, che servono a rimettere tutto in ordine e a leggere tutto. E quello che abbiamo fatto forse è anche quello di suddividere i turni in maniera diversa per evitare ancora di più l'incrocio delle varie persone che lavoravano. Quindi abbiamo organizzato dei turni del mattino e del pomeriggio in modo da essere comunque ancora più tutelati. Ma sostanzialmente, a parte queste cosine pratiche, abbiamo sempre lavorato per fortuna e sempre cinque giorni su sette e questa è un'altra grande fortuna. Sì, quando ci siamo sentiti per organizzare questa intervista, tu mi dicevi che non solo siete riusciti a tenere aperto, ma tu hai potuto non mettere nessuna delle persone che collaborano con te in cassa integrazione. Cioè sei riuscito non solo a garantirti il lavoro, ma anche a garantirlo alle persone che lavorano con te. Sì, quello che stai dicendo è una cosa verissima ed è stato uno dei miei primi pensieri. Ecco, ancora prima del primo decreto che era un po' dubbioso su chi poteva lavorare e chi non poteva lavorare, ho preso la decisione di chiudere i The App per una settimana appunto per fare un po' mente locale su quello che si poteva fare e poi è venuta fuori l'idea delle mascherine. Beh, in quella settimana la paura più grossa è stata proprio quella di non riuscire a garantire un reddito ai miei collaboratori, quindi ho pensato a loro, alle loro famiglie e a quale poteva essere il loro futuro, perché è vero si parla di cassa integrazione, però la cassa integrazione è un dato non certo, intanto non è uno stipendio e non è quando sei abituato tu ad averlo, quindi comunque non è il 15 del mese, non è il 20 del mese, ma è un punto interrogativo per molti anche quello. E quindi mi sono detto, ok, bisogna tirar fuori qualcosa che funzioni e bisogna che il giochino continui a funzionare, non solo per me o per i The Art o per non fermarsi, ma anche per i miei collaboratori che stimo e che hanno sempre fatto di tutto per me e quindi insomma è stato il giusto momento per ricambiare questa fiducia nei loro confronti. Tu sei stato molto pronto, perché in una settimana hai ripensato e riorganizzato il tuo lavoro, sicuramente hai anche la fortuna di lavorare con persone che si sono dimostrate molto flessibili. Ecco, secondo te qual è una caratteristica che un lavoratore deve avere in questo momento, ora più che mai? La risposta l'hai già data tu, flessibilità, perché da parte del datore di lavoro deve esserci coraggio, deve esserci spirito di innovazione e quindi sapersi adattare e adattare la propria azienda, piccola o grande che sia, a quelle che sono le situazioni. Questa del Covid-19 probabilmente non era una cosa, anzi senza probabilmente, non era una cosa prevedibile, quindi nessuno sapeva come affrontarla e tutti noi che siamo rimasti in piedi a cercare di fronteggiare questa pandemia abbiamo cercato degli stratagemmi e dei modi per restare in piedi appunto. Chi lavora dai miei dipendenti o futuri dipendenti e collaboratori quello che chiedo appunto è flessibilità, quello che mi aspetto è flessibilità e spirito di potersi adattare alle situazioni in maniera positiva, quindi non passiva aspettando quello che arriva, ma cercando di capire che se arriva è il frutto del lavoro, del pensiero di qualcuno e che quindi se si è propositivi tutti quanti assieme si raggiunge prima l'obiettivo, in questo caso l'obiettivo era rimanere aperti e mantenere il nostro lavoro e l'abbiamo centrato perché a distanza di due mesi abbiamo ripreso il nostro lavoro ordinario, siamo in piedi, non abbiamo subito danni più di tanto e quindi siamo contenti. E grazie a tutti questo. Certo, certo, beh siete stati molto bravi e molto coraggiosi decisamente. A questo proposito, che cosa di ciò che tu hai imparato nella tua lunga esperienza professionale ti è stato utile ora? Soprattutto, beh, in quanto è quello che ho detto prima, adattarsi alle situazioni è la cosa che ci ha reso più semplice questo passaggio, diciamo, quindi in 15 anni, in 16 anni di attività ne sono successe un po' di avventure, le abbiamo vissute, che siano anche solo dei traslochi o delle cose positive o negative che, insomma, un imprenditore piccolo-grande è abituato a gestire. Probabilmente proprio l'esperienza e un po' di incoscienza, come sempre, mi ha spinto a trovare la soluzione per tacconare, diciamo così, questo periodo e reinventarci. E a oggi però sono ben contento di essere tornato a fare magliette o mascherine divertenti e simpatiche e non più, insomma, quelle necessarie da fare velocemente. Beh, un'esperienza importante, decisamente un'importante esperienza all'interno della storia della tua azienda. Alla luce di quello che hai vissuto, c'è un consiglio, una raccomandazione che ti sentiresti di fare ai giovani imprenditori o alle persone che in questo momento sono senza lavoro e che si trovano, anche loro, a doversi ripensare, a doversi riorganizzare, a capire da che parte partire per andare avanti, per dare una svolta alla loro vita lavorativa? Sì, premetto che non è facile. Anzi, è facile farlo quando si hanno 15 anni di esperienza alle spalle e quando poi è andato anche tutto bene, come in questo caso. Per chi si trova adesso a volersi diventare un imprenditore, a volersi mettere in proprio, o comunque a voler prendere un percorso formativo per qualche lavoro, il consiglio è quello di impegnarsi, di crederci, di fare sacrifici, perché solamente col sacrificio si può arrivare a qualcosa e se io penso al mio passato, penso a tanti anni di sacrifici. Insomma, non è mai stato tutto troppo semplice. L'inizio di The Art, 16 anni fa, è stato in uno sgabuzzino di casa di 10 metri quadri e lì sono stato per un anno e tutti quanti mi chiedevano se ero pazzo a lasciare un lavoro sicuro, come avevo all'epoca, per inchiudermi in cantina con un computer, una prezza, e provare a fare un lavoro che nel mondo digitale era proprio agli albori e non esisteva. Quindi crederci è sicuramente un buon consiglio. Quando penso al mio inizio, insomma, mi viene da sorridere, ma neanche tanto, perché ho qualche vago ricordo delle giornate nottate, insomma, non proprio certe. Quindi, insomma, anche quando le cose vanno bene, vuol dire che dietro c'è stato comunque uno storico magari importante e con tante avventure. Quindi, però l'importante è sempre credersi e metterci impegno assolutamente. Eh sì, è come. Quindi avere una visione, mi sembra di capire, essere disposti al sacrificio e alla gavetta e impegnarsi. Beh, è un bellissimo, un bellissimo messaggio. E tra l'altro della tua storia mi ha colpito anche il fatto che che davvero tu sia riuscito a fare tutto questo in poco tempo e a farlo praticamente da solo, a farlo con le tue forze. Ah, sì, 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 abbiamo avuto un supporto importante da Confindustria che ci ha seguito un po' la parte burocratica di questo lungo cammino che è la certificazione, che ad oggi è ancora un lungo cammino. Però sì, chiaramente abbiamo fatto tutto da noi, ripeto, insieme al nostro collega di Cremona che è stato parte fondamentale del progetto e diciamo che abbiamo creduto uno nell'altro perché all'inizio comunque anche solo l'approvvigionamento dei tessuti e del tessuto non tessuto è stata una battaglia perché era introvabile, è stato difficile trovarlo. Sono aumentati i costi cammino facendo di settimana in settimana quindi comunque la previsione che ci eravamo fatti sui costi non era poi così reale ed è stato comunque tutto difficile. I trasporti tra Cremona e Osta, tutti i vari incastri insomma non sono state proprio passeggiate però alla fine l'importante è che abbiamo raggiunto l'obiettivo e siamo riusciti a fare quello che pensavamo. E come, e come, e come per questo davvero un sacco di complimenti. Senti, prima di lasciarti tornare al tuo lavoro vorrei sapere un'ultimissima cosa come pensi il futuro della tua azienda? Come lo speri o come te lo aspetti? Beh, intanto essere già tornati alla normalità che è quella di due mesi e mezzo fa più o meno è già un tirare un sospiro di sollievo su quello che poteva essere un'incognita qualche settimana fa perché il pensiero più grosso era torneremo un giorno a fare qualcosa di divertente e non delle mascherine. Sì, ad oggi si può dire che abbiamo riniziato a fare il nostro lavoro e che sento molti pareri positivi riguardo al turismo estivo ne sento anche molti negativi però sento tante aziende propositive che quindi si stanno organizzando per avere una bella estate quindi magari senza investire il 100% di quello che pensavano però di immaginare qualcosa anche senza eventi anche senza alcune cose alle quali eravamo abituati quindi il nostro lavoro è ripartito bene per fortuna e spero che continui così quindi il futuro me lo aspetto e lo spero sempre così sempre in crescita sempre certo che non è ma... non so che è un parolone che non è possibile dire che sia certo però non so potremmo raccontare che abbiamo passato anche una pandemia ecco e quando si pensa a qualcosa di catastrofico da raccontare penso che nella prossima intervista fra dieci anni potrò ricordare il frangente della pandemia e dire lo abbiamo superato e oggi siamo qui quindi vedo un futuro ancora molto lungo bene 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 ottimo allora guarda io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità e ti auguro un'ottima estate e un ottimo futuro dai speriamo speriamo di te incrociate e auguri anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando che vada tutto per il meglio grazie a presto ciao 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 Stefano ciao ciao